club desk è il software per club online con il quale potete gestire facilmente il vostro club con club desk è possibile gestire soci e gruppi pianificare e comunicare date ed eventi creare un sito web del club inviare email ai soci e ai gruppi gestire documenti e crearli online scrivere fatture registrare i pagamenti e tenere la contabilità del club inserire e modificare i propri dati associativi in un solo luogo su internet ciò significa che tutte le persone autorizzate hanno accesso ai dati attuali in ogni momento e in ogni luogo gestire tutti i team e i gruppi nel modo più semplice nell'elenco dei membri selezionate le persone che volete assegnare al gruppo junior c ad esempio e poi spostatele con il mouse nella cartella corrispondente qui a sinistra con club desk si dispone di un luogo in cui è possibile visualizzare e gestire facilmente tutte le date dei club ad esempio è possibile utilizzare la semplice funzione di filtro per visualizzare solo le date delle squadre della categoria junior ci modificare gli appuntamenti è molto semplice selezionate comodamente i partecipanti desiderati e utilizzate semplicemente i gruppi e le persone dell'amministrazione dei membri quindi inserire il luogo dell'appuntamento o selezionarlo dall'elenco degli appuntamenti recenti se lo si desidera è possibile farlo direttamente con la visualizzazione di google maps è possibile inviare inviti e promemoria ai partecipanti con la semplice pressione di un tasto o semplicemente creare appuntamenti in serie naturalmente i soci ma anche gli appassionati possono far visualizzare questi appuntamenti sul sito web o sui loro telefoni cellulari create il vostro sito web per il vostro club con club desk per prima cosa scegliete il design che desiderate da una serie di modelli di layout e poi adattate il design ai vostri desideri nell'anteprima potete vedere direttamente come verrà visualizzata la vostra pagina su tablet e smartphone sul vostro sito web non potete solo visualizzare testi e immagini ma anche accedere a tutti i dati che avete inserito in club desk ad esempio le notizie i contatti del consiglio direttivo o le date se si desidera visualizzare solo le partite e non tutte le date è possibile modificarle facilmente ora l'elenco degli appuntamenti cambia in club desk il vostro sito web è sempre aggiornato automaticamente grazie al collegamento diretto con l'amministrazione del club l'invio di un email a un gruppo è rapido come un fulmine ad esempio se si vuole inviare un email a una squadra di juniors è sufficiente digitare juniors e selezionare la voce corrispondente naturalmente questo funziona anche con i singoli membri e la cosa migliore è che funziona non solo con club desk ma anche con il vostro programma di posta elettronica preferito come outlook apomeo e così via o anche sui telefoni cellulari con club desk ogni socio del club ha automaticamente il proprio indirizzo email questo è composto da nome e cognome e dal nome del club facile da ricordare club desk inoltre automaticamente tutte le email agli indirizzi email personali in modo che nessuno debba creare un nuovo account email estremamente semplice ed efficiente è possibile archiviare tutti i documenti del club in modo centralizzato su internet e renderli disponibili a tutte le persone autorizzate qualcuno vuole dare un'occhiata al verbale dell'ultima assemblea generale allora può trovarlo immediatamente nella cartella corrispondente e consultarlo ma club desk offre molto di più con il word process integrato è possibile creare e stampare facilmente lettere in serie inserite i destinatari nella parte superiore e fate clic su stampa e la vostra lettera è pronta è inoltre possibile creare facilmente tabelle ed elenchi di ogni tipo se lo si desidera riempirli direttamente con i dati dell'amministrazione dei membri con club desk avrete sotto controllo le finanze del vostro club potete inviare facilmente le fatture qr per le quote associative i campi di allenamento o le sponsorizzazioni via email o per posta è possibile registrare o importare i pagamenti in entrata con pochi clic e inviare tutti i promemoria di pagamento con la semplice pressione di un pulsante club desk rende ancora più semplice la contabilità del club per ogni fattura o pagamento viene creata automaticamente una voce queste voci hanno il seguente aspetto ad esempio la contabilità integrata offre tutte le funzioni necessarie per la vostra contabilità diversi piani dei conti pianificazione del bilancio varie valutazioni supporto per l'iva e le valute estere e molto altro ancora a seconda delle vostre esigenze potete tenere la contabilità in partita doppia un conto delle entrate e delle uscite o un semplice libro cassa naturalmente club desk è compatibile con i dispositivi mobili e potete completare tutte le attività importanti anche su un tablet o sul vostro telefono cellulare con club desk avete sotto controllo l'amministrazione del vostro club